Guida al voto 2019, per i votanti del Partito Democratico Attenzione! Ai votanti del Partito Democratico Alle prossime elezioni del 26 maggio 2019 Sulle schede elettorali Non dovrete barrare il classico simbolo del partito Ma bensì quello che si trova sotto le apposite tendine Fai molta attenzione È importante, rispettare tale regola Per non offendere gli altri partiti